amici bentornati sul canale 9 mila giri elaborazione autosportive oggi abbiamo una clio rs quindi una macchina ne abbiamo già presentate forse un altro paio però diciamo che sono macchine che si prestano bene a modifiche di carattere meccanico due parole su questo tipo di vettura è un 1.6 turbo con 200 cavalli quindi un quattro cilindri in linea con 200 cavalli la caratteristica direi peculiare secondo me la caratteristica più importante è il fatto che ha un cambio robotizzato con le palette al volante quindi un cambio che dà una sensazione di guida molto appagante molto sportiva e altra caratteristica di questa macchina che è un differenziale autobloccante elettronico quindi sono due cose che la distinguono magari rispetto ad altre vetture con le stesse diciamo velleità chiamiamole così a parità di gamma diciamo altri dati sono una macchina che arriva tranquillamente sui 230 235 all'ora e fa uno 0-100 più o meno in 6 secondi e 5 6 secondi e 7 assetto molto rigido una macchina che forse una delle critiche che vengono fatte a questo genere di vettura una macchina che ha un assetto molto rigido già di serie per cui va bene determinate condizioni se uno deve utilizzare ad esempio a milano fra il pavé le traversine del tram cose del genere senza neanche andare a cambiare molle ammortizzatori sto parlando della macchina stock è una macchina già di per sé abbastanza rigida allora quello che ci ha chiesto il cliente è solito stage 1 fra l'altro non l'abbiamo neanche completato tutto abbiamo iniziato in due step inizialmente abbiamo fatto la rimappatura della centenina elettronica in questo caso via seriale abbiamo guadagnato circa 26 cavalli e più o meno una quarantina di litometri di coppia quindi siamo arrivati a 200 cavalli iniziali siamo arrivati a 226 cavalli non abbiamo abbiamo preferito non come si suol dire non tirare troppo il collo alla macchina proprio per avere una affidabilità assolutamente totale quindi come elettronica abbiamo per il momento fatto questo successivamente il cliente si è trovato bene ci ha chiesto di intervenire sullo scarico perché come tutte le macchine di ultima generazione lo scarico penalizza quello che è il sound allora Mirko adesso sta lavorando per montare il classico combi come lo chiamiamo noi cioè terminale sportivo ragazzon e centrale diretto intanto direi di guardare quello che era la conformazione originale quindi questo è il terminale originale con un silenziatore veramente di dimensioni molto molto generose e quello è il tubo centrale con questo qua non è proprio un vero e proprio silenziatore ma non rompi fiamma perché all'interno se uno guardasse adesso è impossibile perché c'è la curva ma comunque è già diciamo diretto serve solo per andare a fono assorbire ulteriormente quelle che è la le onde sonore dello scarico però la sommatoria dei due purtroppo crea un sound che è veramente non all'altezza di una macchina sportiva veniamo adesso a quello che sta facendo Mirko quindi partiamo dalla parte anteriore questo è il catalizzatore al quale ci andiamo aggiuntare quindi ripeto questo è il catalizzatore qua c'è la parte centrale quindi tubo centrale che va a eliminare il famoso rompifiamma che dicevamo prima qui c'è l'aggiunzione fra centrale e terminale il quale è terminale adesso Mirko sta avvitando le ultime parti e questo questo ripetiamo è omologato quindi questo sta dentro nel 92 decibel qua c'è la stampigliatura dell'omologazione poi dopo noi daremo anche la card la fisce di omologazione che il cliente terrà all'interno dei documenti le due uscite non sono uscite a vista perché qua dietro verrà rimontata la bandella che è questa qua con queste chiamiamole false uscite quindi le due uscite si andranno a inserire a insertare direttamente all'interno di questi buchi ecco perché non non abbiamo le uscite a vista come spesso facciamo vedere su tante su tante vetture questa è la card di omologazione dove come dicevo tutte le volte c'è il tipo di macchina Renault Clio MK4 RS1006 Turbo fa anche la trophy volendo e questo qua il codice del terminale l'importante è tenerlo nei documenti della macchina in maniera tale che a qualunque controllo card e non si hanno problemi il centrale teoricamente non sarebbe omologato però diciamo che la percentuale di rischio che qualcuno vada sotto a vedere che manca quel rompifiamma lì è talmente limitata che direi che si può anche non correre rischio diciamo in questo senso io lascerei Mirko che finisce di fare il suo montaggio l'allineamento non riusciamo in questo caso a farvi sentire il sound dello scarico eventualmente ci riserviamo siccome un cliente che a maniera diciamo che non finirà certo qui i suoi lavori adesso sta facendo lo scarico poi vorrà fare l'impianto frenante cioè ci sono altre cose che farà magari alla prossima puntata vedremo di farvi sentire di fare un punto di situazione di farvi sentire anche quello che è il risultato finale dello scarico direi che anche in questo caso è tutto anche per questa Clio abbiamo descritto un lavoro fatto in maniera direi giusta non non troppo invasivo non in linea con quello che sono il nostro il nostro modo di lavorare il nostro pensiero è proprio quello di fare senza eccedere cioè di migliorare senza eccedere quindi direi che anche in questo caso abbiamo raggiunto il risultato mi ero dimenticato questi erano due lavori che abbiamo fatto precedentemente già che siamo a vista si vedono ammortizzatori bilstein b8 e molle abac pro kit in maniera tale da quindi era già rigida la macchina di di suo con questo assetto sicuramente diventa più guidabile però la rigidità un pochino diciamo va a perdere un pochino di comfort questo è evidente comunque diciamo essendo una macchina sportiva ci sta il cliente è un cliente che a cui piace avere una macchina decisamente sportiva e direi che alla fine ha fatto un'ottima cioè fino adesso ha fatto delle ottime scelte direi che anche per questa per questa Clio è tutto mi invito a consultare il sito www.9000giri.it nell'archivio elaborazione soprattutto nell'archivio elaborazione dove trovate tutte le schede vettura mi potete contattare in sede allo 027383175 per qualunque tipo di informazione e qualunque tipo di consiglio e soprattutto vi invitiamo a cliccare sulla campanella che c'è sotto e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima ciao